Ciao a tutti amici e benvenuti e bentornati a Illusius 2, la profezia! Come stai, sono Amorius, qui con me! Siamo qua a giocare con Lucius, il bambino diabolico, il bambino cattivo, il bambino che ci ha rotto le palle e siamo in un nuovo, nuovissimo episodio di Lucius, livello 5. C'era una signora che è scomparso, iniziamo bene. Ci fregano sempre il cosino per via di un bug, vabbè. Comunque, qua abbiamo cancelleria, l'amministrazione e il chiave di obitorio e poi sicuramente altro perché sicuramente non finiscono qui. Ora, una donna che aspetto il trattamento, va bene, ok. Ok, allora, calmi, calmi e sangue e freddo. Ops, qua, no. Sì, sì, può essere. Guarda la map, la map, i pezzi rossi sono quelli dove non puoi andare. Sì, potresti andare. Comunque, io uso questo qua, l'equipaggio, iniziamo subito. Là. Perfetto. Là, così almeno un po' di punti ce li siamo fatti. Detto questo. Allora, la cancelleria, forse possiamo passare di qua. Sì, è qua, è qua. Addirittura è qua, proprio. Quel cassetto lì, penso. Quale cassetto? Ah, giusto. È brillo. Cassetto chiuso contenente le cartellette cliniche di Isaac, il dottore nella camera di decompressione ne ha le chiavi. 60? È questo? Sì. Ah, no, è quello. Decompressione. Poi c'è una tizia. Questo è 60 e 52. Qua è 60 e 52. È questo tizio qua. Che ha le chiavi. Allora, quello lì che cos'era? Che ha chiesto, ma? Questo 80 e 27. Porta capire e controllo. Sembra che il dottore lì dentro sia l'unico ad averne le chiavi. Questo è qua. Che però si apre. Ah, questa qua è tipo la... La stanza di decompressione. Mi sta venendo... Ok, penso. Mi sta venendo in mezzo di idea. Se noi lanciamo qua tipo a sto tizio qua delle cose... Tipo non abbiamo niente. Sì, ci abbiamo il portafoglio. Ah, il portafoglio. Bravo, madre. Sì, lo lancio qua il portafoglio. Amico, guarda qua. E fagli tipo una pista. Buttagliene uno qua vicino alla sedia. Ah, così, proprio brutale. Un po'. Penso che qua vada bene. Ah. Teori al tizio, se torna qua... Forse... Non lo so. Lo so, però. No, perché ne prende uno alla volta, mi sembra. Raccogli questo qua vicino e raccogli pure quello e mettilo un po' più vicino. Eh, ma devo buttarlo comunque dentro. Amico, l'hai visto? Dai che l'hai visto il portafoglio. Certo che l'hai visto. Adesso chiudiamo la porta. Tac. Qualcosa succederà, no? Eh, penso che adesso dobbiamo entrare in questo porto. Però abbiamo detto che è l'unico che ce l'ha... Però alle 80.27, no? Lui non è alle 80.27. No, quello per entrare nella porta lì. Qua. Qua, qua. Qua, qua. È la camera di... È quello che serve per la camera. Guarda qua. Buttami qualcosa. Certo, cavolo, ma trusti. Quello che hai detto, come sempre. Vabbè, la camera di decompressione. Sì? Che ci buttiamo dentro? L'acido? Butta, butta. Butta tutto dentro. Vabbè. Entra dentro. Attiva la macchina qua. Attiva la macchina, vai. Vedi, te l'ho detto. Sì, è vero. Cioè, era il controllo della macchina. Sì. Tra l'altro il potere non stiamo usando una ceppa per ora, eh. Ok, direi che possiamo spegnarla, giusto? Secondo me non l'hai spegnata. No, neanche per me. L'hai attivata un'altra volta. No. No, è morto dentro. Non mi riesco più a aprire la porta. No, riesco, riesco, riesco. Riesco, riesco. Piano piano. Riesco, riesco. Dammi queste chiavi. Dammi queste chiavi qua, per l'oltre ceppa. Vieni qua te. Prima di tutto te vieni qua. Stai fermo qua. No, mi sa che hai fatto andiamo. Ah. Sì, sì. Ci sono ancora... Le cose. Lasciamolo qua. Ok, adesso abbiamo qua. Apriamo questo. Perfetto. Completa le cartelle cliniche del bambino. Lusus ha trovato le cartelle cliniche del ragazzo che stava distruggendo Ludlov. Vi ha riportato una sorta di allergia al sale molto rara che causava una specie di ebollizione del sangue al solo contatto con il sale. Anche Lusus era stata diagnosticata questa allergia. con effetti però che non erano nemmeno paragonabili a questo. Sale. Dobbiamo trovare il sale. Sì, però... Ok, adesso l'obiettivo 2 è l'amministrazione. che è da tutt'altra parte. Cioè... Sì. Giù, signor, mi dito bene. Che è questo? La penna. Io ti frego la penna. Non so perché, però magari mi serve. Questa passa anche di qua. Sì. Intanto mi guardo in giro se vedo qualche altra cosa che potrebbe essere utile magari. Aspetta, ma... Eh... Possiamo uscire? Però ci sono... C'è davanti la... No, perché qua siamo ancora al... No, questo qua è l'ultimo piano. Sì, è l'ultimo piano. Sì, 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 sì. Noi abbiamo chiamato il tizio là. Qualcuno si sta facendo la doccia e ha chiuso la porta. Ecco, ti pareva. Ah, qua c'è un... Ok. Eccola qua. 82, 26. 82, 26. L'infermiera fa il bucato e pulisce. Ha le chiavi delle docce. Perfetto. Quindi questa qua è quella da prendere. Prima di tutto mi disfo del solito crocifisso che c'è qua che... Come sempre... Bibita e lattina. No, si è aperta la bibita e non si è... No. Lancia l'altra lattina. Ma... Ma che... Allora... Ha preso la... La porta prende. La porta. Sì, che non posso più chiudere. Ah, che erva. Vabbè, lasciamolo qua. Tanto non credo che ci rompa le palle qua. Il gioco baggato. Cosa vuol dire il gioco baggato? Ok, comunque questa tizia qua come la facciamo fuori? Allora, vediamo qua se c'è qualcosa di... Acido, acido. Via. Se abbiamo l'acido possiamo lanciargli l'acido. Però vorremmo vedere se magari... Sai qua. Intanto mi rifocillo di materiale perché non si sa mai che... La penna lancia la penna. E' la penna cosa fa così? Oh, guarda qua. Qua abbiamo delle pinnole. Cerchiamo un... Mamma mia, mamma mia. Composto infiammabile. Un po' d'acido. Altro composto infiammabile. Porta questa. Vieni qua. E lei? Ma lei? E lei? Sì. E lei? T'ha fermo Lucius. No, mettilo meglio. Lascia. Lascialo. Che cavolo. Il pacchetto di sigarette. No. Vabbè lancialo, tanto lo riprendi. Mamma mia. Vabbè, ok. Aspettiamola qua, ma treius, direi. Facciamo questo qua. Guarda, guarda le palle. Aspettilo qua. Lascia la palle. Ma che cavolo ti rimane incollato? Cosa che è sta? Ma guarda! E' tornata là. Ma che c'è sta roba? E' tornata. Vero. Ok, mentre aspettiamo che torna. Questo è bagato. Questa cosa è bagatissimo. Non puoi prendere. Penso sia l'acqua. Cioè l'acqua, l'energia. Cos'ha? Insomma, ma treius, questo gioco, ogni tanto è tornata là, è tornata là, è tornata là, è tornata, è tornata, è tornata. No, dai, toccati. No, mamma. Vederei di piazzarlo dentro. Sì, lo piano, lo piano, lo piazza qua, guarda. Vabbè, forse dentro è anche potrebbe essere una buona soluzione. Vabbè. Barrattolo qua. No, 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 meglio di no, meglio qua. Scatola di gici. La penna, la penna. No, scatola di gici. Questo ha attraversato. Boh, fatto. Seccato proprio. In una maniera incredibile. Come al solito. Come? Sembra la solita maniera. Eh, però mi piace questa maniera qua un po'. No. Sì, beh. Tanto. Ok, siamo qua, ora, e c'è sto tizio desnudo a fare la doccia. No, però, non puoi farti vedere. Non possiamo farci vedere. Apri Q. Premi Q per aprire le... Trova l'amministratore ospedaliero responsabile della tua tortura e uccidilo. Acido, via. Tanto ne abbiamo uno in più. Cioè, ne abbiamo tre. Io saprei cosa fare. Non c'è l'acido. Manometro attaccato. Dai, fammi leggere prima. Attaccato. Girando la vaffra e aumenta la pressione del tubo. Non sarebbe intelligente manomettere il manometro e bloccare il tubo con un oggetto corrispondente. Vabbè. Usiamo l'acido, perché qua... Tanto ne abbiamo... Mi sarebbe piaciuto... Però... Aspetta, scusa. Eh, no, ormai non possiamo più cambiarlo, eh, l'oggetto. No. Sì, sì, l'ha cambiato invece. No, mi sarebbe, sai cosa, piaciuto? Giocattolo erotico. Vabbabia! Cosa ci fa qua? Vabbè. Mi sarebbe piaciuto, sai cosa? Magari... Se si potesse mettere nell'acqua... L'acido. Però non... Lanciaglielo addosso e basta. Cioè... Non... Sì, glielo lancio addosso volentieri. No, 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 tranquillo, 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 tranquillo. Non faccio niente. Allora, prendiamo sto acido. Vado, eh. E' ancora vivo? Ma in se è accidato ed è vivo! Ma treius! Dove vai? Se è accidato ed è vivo! Guardalo! Ma che cavolo... Ma che cavolo è possibile? Vi faccio vedere. Vai, vieni, vieni. Ok. Vieni fuori. Vieni fuori, vieni fuori, vieni fuori. Vieni fuori. No, cavolo, è passato prima lui. Che sfiga. Ma come cavolo è possibile che sia ancora vivo? Ma treius. Che palle! Io gli lancerai un altro acido. Proviamo con un altro acido. Porca è, va. Ma che cavolo? L'ho preso ancora, eh. Ma dai! Ma non muore con l'acido. Sì, sì, è morto, è morto, è morto. È morto! E che cavolo, cioè. Un posto tanto malefico, bisogna qualcuno su cui contare. Quel giorno è stato l'amministratore ed era incolpato. Ad essere incolpato. Brucerà l'inferno insieme a tutte le altre anime che abbiamo preso quella notte. Cioè, questo è morto proprio così. Intanto... Ah, lo shampoo poteva modificargli. Probabilmente mettendo lo shampoo con l'acido poteva... Ah, hai capito. Eh, però non lo puoi prendere nell'inventario. No, eh, ma magari potrei combinarlo subito. Non lo so. Vabbè. Poco, poco importa. Ah, vedi, contenitore... Troppo... Vabbè, comunque andiamo verso la porta... ...dell'obitorio. Questa è la porta. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, andiamo. Eh, ok. Credo che dobbiamo... Che cazzo... Io lancerai un acido in mezzo. Mamma mia. Sai che casino? Sì, però in realtà, guarda, questo qua ci sta seguendo. E questo di qua... E l'ho scartato. Questo... Arriva. Dai, sono qua. Dai, amico, sono qua. Sono qua. Eh, cosa sei... Oh, cavolo, questo qua è venuto da dietro. Ok, no, bisogna probabilmente aspettare... ...e ammazzarli tutte e tre. C'è un condotto. Hai provato a vedere se c'era un condotto, ma traius, da quella parte lì? No, no, no. Bisogna capire se c'è un condotto. Ma pensa di sì. Cioè... Sì, anche io penso di sì, però... Buongiorno. Buongiorno, signora. Allora, vediamo un po'. Invece no. No. Non c'è nessun condotto. Ha detto alla sicurezza la chiave dell'obitorio. Io lancerai un acido. Vediamo cosa abbiamo nell'inventario. Su quello lì e poi... Eh... Sì, abbiamo l'acido. Abbiamo anche... Un accendino. Potremmo... Potremmo... Ma traius, potremmo gettare questo. Cosa è successo a quel signore lì? Non lo so, però possiamo... Questo qua... Ok. Contenente... No, si è rotto... Nel posto sbagliato. Ma che schifo che fa questa cosa qua. Equipaggiati. No, mi ha preso, però l'ho buttato. T'alba, l'ha lanciato! Sì, 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 sì. Line della vita. Ok, adesso aspettiamo un attimo. Speriamo che questo si rialzi e torni subito là. E a questo punto... Lanciamo questo qua dentro. Dovrebbero bruciare tutti. Se quello là si alza e va là al volo. Sì. Dai, vai là al volo. Vai là al volo prima che sparisce tutto. No, non è sparito niente. Bene. Teoria, lanciandolo qua. Guardalo qua. C'ha scoppio e ritorno... Boh! Omicidio, omicidio. Non so se c'è... Sì, c'era scritto triflo qualcosa. Mamma mia, un disastro abbiamo fatto Matreus. Veramente un disastro. Meglio... Cioè... Ormai abbiamo padroneggianza nel gioco, devo dire. Adesso aspettiamo un attimo che si raffredda lì. Che è successo? Questa se n'è andata. Che cacchio? Chiudiamo la porta. Chiudi. E che cavo? Eh, ok. Eh, perfetto, non ti fai guarda. Queste sono le chiavi, perfetto. Questo qua ce lo freghiamo che magari ci sono le donne. Auto per evadere. Sì. Lista dei servizi, in questo momento non c'è alcun servizio assegnato alle guà. Ah, ok. Potevamo probabilmente cambiare la lista per fargli controllare qualcosa e rimanere solo con quel tizio lì. La dinamite! Ciao! Una sveglia! Per far la dinamite con la bomba, va bene. Io me le ho fatto tutte queste cose qua. Potrebbero essere utili nelle prossime volte. Comunque c'era qualcosa qua. C'era l'allarme. Vabbè, comunque abbiamo preso le chiavi. Direi che non possiamo... No. Auto per evadere. Sì, regina. Sì. Un'auto per evadere. Nell'obitorio c'era una porta sul retro. L'ha detto lui. Allora, passiamo di qua. Io mi fido. Passiamo di qua. Proviamo ad andare di qua. No. Però c'è una bombola a gas. Tieni la presente se succede qua. Qua neanche. No. Qua neanche dobbiamo andare dall'altra parte. Fa che mappa del cavolo. Andiamo di qua. No. Come cavolo facciavo. L'obitorio. Trova la persona che segue il bambino. Buongiorno, dottor. Dobbiamo cercare l'obitorio prima di tutto. Sì. No, ho capito. Ma il problema è dove cavolo è. Ah, forse di qua. No. Questa porta qua. Sì, porta dell'obitorio, è vero. E ha come codice. No, la bambino è aperta. Avevamo la chiave, avevamo la chiave. Cioè, che cavolo che ha come codice. Questo ce lo fottiamo. Se ci abbiamo spazio, non si sa mai. Ah, ok. Questa qua si poteva... No, no, no. All'obitorio non possiamo passare. Calma. Io andrei di corsa. Sì, anch'io. Tanto questo qua non... Ah, scappa, scappa, scappa. Chiuso. Via. Non basta. No, 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 è chiuso. Ho capito, aspetta, faccio una finta di corpo. Vedi qua? Sì, però non ho capito cosa devo fare. E infatti qua? Non ho capito cosa devo fare. Dobbiamo andare dietro dove c'è l'auto. Ho capito, ho capito. Il problema è che questo qua... Devo fargli una finta di corpo clamorosa. Ma tanto mica ti prendeva. Ci servono le chiavi. Eh, ho capito, lo sapevo anch'io. 86-94. Questo cosa c'ha? Ce l'ha lui. Acido, acido, vai. Bisogna assegar via lui. Che acido, io gli sparo dentro questo qua adesso. Attenzione, finta di corpo ancora. Grande, grande finta. Però c'è un... C'è un cosa, c'è un... Eccolo qua. Con calma, fammi prendere le cose nell'inventario prima. Porcaccia, è questo qua. E qui, poi c'è tutto qua con l'acido, vediamo, ok. Amico, tu devi capire una cosa. Lei è morto subito, mi sembra. Ebbè, che cavolo. Ma l'altro sarà stato vivo per cosa? Perché era sotto la doccia, magari. Secondo me l'altro era un bug. Sì, può essere. Eccoci qua. Ok, qua c'è il tizio lì. Azzo. Ah, c'è il... C'è il meccanismo. C'è il meccanismo d'azionare. No, no, entri in quella porta di lì. Che porta? Questa. Tio, capito. Questo, uh, bastone di legno. Vai? Qua, è lì. È vero, è qua facile. Ma scusi, amico, hai ragione. E c'è una macchina così, alla cavolo. C'è una macchina così del tizio che avevamo chiamato nella scorsa puntata. Satanacchia. Vediamo un po' cosa ci può illustrare questa puntata. C'è una macchina così. C'è una macchina così. Non più di visite di Lucifer. Non più di guardare le mani e di dire loro cosa fare. Era una competizione. L'unico che potrebbe rilasciare le professe potrebbe ottenere i poteri necessari per sentire sull'esercito dell'unico vero imposto. Se non potuto, tutti gli altri potrebbero pericare con tutti i resti dei mortali, mentre l'Apoclepia potrebbe posizionare il mondo vivente. Questo era tutto preparazione per il conflitto finale tra il cielo e la terra. Il conflitto finale che potrebbe revitalizzare l'umanità e creare un nuovo inizio. Luce si è arrivato, credo, al posto là che dicevano. Vediamo se c'è ancora. E l'obiettivo è comunque sempre quello di di diventare quello più cattivo. Vediamo se c'è ancora il triciclo davanti a noi. Non penso proprio. Anche perché tanto poi sparisce. C'è! C'è ancora! Eccolo qua! Però intanto sparisce. Ragazzi. Siamo fuori. Trova la Bibbia. Strano. Poi c'è trova la Bibbia. Trova un modo per prendere la Bibbia. Trova la mappa. Cerca indizi e applicare il fuoco nei campi di grano turco. Mi piace, amici. Ma lo vedremo nel prossimo video. Perché per questo video di Lusos 2, la profezia è tutto. Vi voglio ricordare, come al solito, di iscrivervi al canale. Mettere un mi piace, ovviamente, di commentare. Damo Ruseta. Matri. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.